Buongiorno, buon sabato a tutti ragazzi. Io sono Reduce da una partita di Padel, quindi intanto un campo da calcio che amo, meglio del Padel perché il Padel l'ho perso e ho rosicato come un castoro. Mamma mia, che sport del cavolo fa rosicare con le belle bestie. Però vabbè, adesso andiamo a pranzo, vado da Rosy e Chinoo che per fortuna sta un po' meglio e speriamo di continuare così. Dai, buon weekend! Buongiorno 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 Buongiorno